Musica Aveva costruito una piccola serra in casa per coltivare ben otto piante di marijuana, ma è stato scoperto. A finire in manette un 32enne aretino, già nota alle forze dell'ordine per precedenti penali, sempre inerenti allo spaccio di stupefacenti. Il giovane, durante una normale operazione di controllo del territorio, finalizzata al contrasto dell'attività di spaccio, è stato notato dai poliziotti mentre si aggirava per le vie del centro storico con fare sospetto. L'uomo è stato così fermato e sottoposto a perquisizione. Gli agenti hanno trovato un piccolo quantitativo di droga all'interno di una delle tasche del suo giaccone. Successivamente è stata disposta la perquisizione dell'appartamento del 32enne, dove è stata trovata una vera e propria serra, con tutto l'armamentario utilizzato per la produzione, la raccolta, la coltivazione ed infine il confezionamento dello stupefacente, il 32enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di San Benedetto ad Arezzo.